Ecco, 4 minuti Quattro minuti, vedete, ragazzi? 6 minuti, signore 6 minuti 1 minuto, 6 batticini, 3 minuti 4 minuti 1 minuto 1 minuti 3 minuti 3 minuti Sì. 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 Sono delle patenze, delle partezine, quella colorata. Pesa, pesa. 1 minuto 3 minuti 4 minuti 4 minuti 4 minuti Tene patenza 2 minuti 3 minuti 1 minuti Panchi da tesoro al nannino 3 minuti 3 minuti e 7 partizzini 1 minuti 3 minuti 7 minuti 3 minuti 3 minuti 2 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 2 minuti Grazie a tutti.